Buonasera gentili signori, signore e bambine e bambini Sono Andrea Calcagno, l'autore della parata Vi aspetto allo stand A08 Ultra Blu Con i miei libri e vi farò tante dediche Ti faccio proprio un disegnetto O faccio meno di otto minuto? Grazie Grazie Buona lettura Grazie 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 Ciao Grazie E' l'ipopotamo Sbiruino Sì, Alessandra Mondaini Guarda qua, questo è il lavaggio Mamma mia Questo è bellissimo Oddio Mi piace Mi piace, mi piace acqua la lenza Mi piace 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 Mi piace